Buongiorno amici, bentrovati! Oggi parliamo di quello che sta succedendo nel Regno Unito, in Inghilterra, negli ultimi due settimane, negli ultimi tempi. Non ho fatto molti video in merito perché ero un po' stanco, però è il momento di dirvi un po' cosa succede perché ovviamente la versione che vi arriva in Italia è filtrata, modificata e c'è sempre insomma un bias, qualcosa che non quadra. Anche devo ammettere nelle fonti di controinformazione, spesso leggo versioni della situazione inglese del Regno Unito non esattamente accurate, quindi ascoltate me che qui ci vivo, le notizie le vedo, lavoro, sono in contatto con le persone e potete fidarvi. Ad ogni modo, ogni cosa che vi dico poi ve la ripunto a articoli della BBC o fonti più o meno ufficiali, quindi fate un po' le vostre considerazioni in merito. Comunque, andiamo a dirvi cosa è successo negli ultimi tempi. Allora, negli ultimi tempi, come sapete, vabbè, dicembre c'è stato un po' questo panico, Omicron, è arrivato Omicron, quindi c'è stato il famoso piano B, che però alla fin della fiare il piano B non è stato nient'altro che dire alla gente tornate a lavorare da casa se potete e mettete la mascherina al chiuso di nuovo perché ce l'avano tolta da luglio e che altro che hanno messo? Hanno messo questi famosi Covid Pass in Inghilterra per grandi eventi e situazioni, forse nightclub per andare a ballare, quindi avevano introdotto persino in Inghilterra il discorso del Green Pass, ma solo per cose molto specifiche, che sono i grandi eventi e il nightclub. Quindi questo era stato il famoso piano B, niente di che. Siamo sopravvissuti attraverso dicembre con un milione di persone ammalate, con questo Omicron che alla fine della fiera non ha nient'altro che una leggera influenza. Vi posso dire, a mia esperienza lavorativa di persona, che tutti i miei colleghi, e dico tutti quelli che hanno partecipato al rito del siero in due o in tre dosi, sono tutti stati di merda. Sono stati di merda dopo essersi fatti il coso e si sono ammalati, la maggior parte di loro sono anche stati male con influenza, omicron positivi o meno, sono tutti stati a pezzi. Mentre tutti i miei amici che conosco che non hanno fatto il siero stanno bene. Qualcuno ha fatto uno o due giorni magari con un pochino di raffreddore, di temperatura, che dopo tutto a dicembre, a gennaio ci sta anche che uno si pigli un raffreddore, una leggera influenza. Però la mia esperienza coi miei occhi, e ve lo dico in maniera, a prescindere che uno sia pro o contro il vaccino, è che tutti quelli che si sono fatti questo cazzo di siero stanno a pezzi, sono rovinati, molti hanno preso ferri dal lavoro e si sono ammalati nonostante fossero immuni, immuni nella versione che ci raccontano. Che immunità è? Un siero che non ti rende immune e ti continua a rendere contagioso. Ma non entriamo in quel discorso, andiamo avanti col dire cosa è successo. Quindi abbiamo avuto un dicembre in cui un milione di persone non sono andate al lavoro, quindi molti treni cancellati, uffici mezzi vuoti, rallentamenti, eccetera. Vabbè, siamo sopravvissuti a dicembre, siamo entrati a gennaio. A gennaio adesso il focus della narrativa mainstream della BBC e del governo inglese si è spostato dal... dopo averci... ah, ho dimenticato di dirvi, ci hanno martellato le palle per fare la terza dose, ci sono state pubblicità ovunque, all'interno delle aziende, nei cartelloni ovunque andate, sulla tv, siamo eravati al punto persino che quando si alzava il telefono per chiamare il fisco inglese prima di parlare con qualcuno ti dicevano tutti gli cittadini inglesi devono farsi la terza dose, mi raccomando, prenotala. Quindi c'è stato un martellamento enorme. Il clown, il ciccione biondo, nel suo discorso di fine anno ha detto che l'economia inglese sta andando alla grande, che è stato un grande successo, che abbiamo gestito la pandemia al meglio e tutto ciò è grazie ai famosi V. Quindi è riuscito, da buon promotore della Pfizer o di queste aziende farm, è riuscito a dire che se le cose vanno bene è solo grazie ai V, che ovviamente non è vero perché lo vede anche una persona, anche un bambino di 5 anni, se prende i grafici dell'Africa o dei paesi asiatici o dei paesi poveri che non hanno ricevuto nessuna V, lì non c'è nessuna emergenza sanitaria. Guardiamo anche i paesi più vicini a noi, la Romania, la Bulgaria, eccetera, lì nessuno è stato V e non c'è nessuna emergenza sanitaria. Invece i paesi dove c'è stato un lottante al 90% di V, come l'Italia, l'Inghilterra, la Francia, eccetera, sono tutti nel panico, hanno avuto un casino di infezioni, hanno avuto un casino di casi positivi e hanno sofferto quest'ennesima ondata. Quindi menzogna, non è vero che sono grazie ai V che siamo sopravvisati all'inverno e che non ci sono i cadaveri nelle strade, questa è una menzogna perché lo dimostrano i dati, perché se fosse vero avremmo in Africa, in India, nei paesi poveri dove non c'è stata la vaccinazione, non ha avuto luogo, avremmo le catombe, lì sarebbero nella merda, mentre invece nella merda c'è stato solo il mondo occidentale. Ok? Quindi questi sono dati, non sono opinioni, sì, vax, no vax, questi sono i dati. I paesi meno vaccinati stanno bene, i paesi più vaccinati sono stati male quest'inverno, è un fatto, ok? Poi potreste dirmi, beh sono stati male, dipende come interpreti lo stare male, se veramente era un'emergenza avere 100 morti al giorno, 150 morti al giorno, 200, quando poi ricordiamo che questi morti sono morti con il virus, sono persone che sono state positive negli ultimi 28 giorni, cioè quanto questa cosa è vera, quanto è manipolata, quanto questi ospedali in Inghilterra sono stati sotto pressione, a giudicare da alcuni video che ho visto, erano vuoti la maggior parte dei ospedali, ma capite, ormai non hanno più credibilità questi buffoni in Parlamento, sia in Italia che in Inghilterra, ovunque. Comunque, andando avanti nel raccontarvi cosa è successo, quindi abbiamo avuto un mese di dicembre in cui ci hanno detto di fare il boosterino, e quindi c'era un sacco di gente con le chiavi del booster, tutti perati, tutti che sono stati male, che non sono riusciti neanche a andare a lavorare, non riuscivano a fare le scale, distrutti da questo siero, che però è importante, perché comunque serve per proteggerci, lo dice il governo. Quindi, adesso però la narrativa è cambiata. Come è cambiata la narrativa? La narrativa è cambiata che l'Inghilterra ha shiftato il focus dall'emergenza pandemica, cominciano a parlare di endemia, quindi stiamo uscendo dalla crisi, non c'è tutto questo problema, in effetti Omicron non è così grave, sono morte 22 persone in tutto il mondo, è il numero che ho inventato, però di fatto questa Omicron, e lo dicono gli scienziati con l'H, tocca solo le corde, le vie aeree superiori, non vanno i polmoni, quindi sono loro anche che ammettono che questa Omicron non fa chissà quali danni, diversamente tutti i miei colleghi, la metà sarebbero morti adesso, visto che sono stati tutti contagiati. Comunque, la narrativa è diventata che non è più in Inghilterra un'emergenza pandemica, ma si sta andando verso l'endemia, bisogna cominciare a vivere con il virus, stanno cominciando da 5-6 giorni a raccontarci che insomma stiamo calmi, è finita, diamoci una calmata, hanno tagliato in due le quarantene, da 10 giorni sono diventati 5 in Inghilterra, per chi è in quarantena da Covid eccetera, quindi capite che se fosse un'emergenza non ridurrebbero le quarantene, questo, vabbè, ci sono dei motivi anche politici dietro perché se tutti stanno 10 giorni in quarantena per un raffreddore poi il paese si blocca, però queste sono analisi mie, no? Quindi la narrativa è che non c'è più tutta questa grande emergenza e oggi il nostro amico, e ve lo voglio far leggere, il nostro amico Savid Javid, si si chiama Javid, però è stato soprannominato Javid perché Jab fa rima con Jav, chi l'ha capente? Ha detto questo, guardate, Savid Javid to abandon Covid passes as the Omicron surge recedes. Quindi il ministro della sanità, quindi lo speranza inglese, vuole abbandonare i pass, quindi i green pass, visto che la pompata, l'ondata Omicron recede. Quindi dice che, insomma, ha concluso che la certificazione Covid-19, che è il green pass, non è più necessaria, visto che l'ondata Omicron si rammollisce, diciamo. Ha detto al MP che tutti erano d'accordo, che non erano felici nell'idea di mettere questa policy, e che vogliono dal gennaio 26 liftare, quindi sollevare le raccomandazioni e lavorare da casa. Certo è che vogliono rimantenere le maschere, e l'unica cosa che si verrà rimantenata sono le maschere obbligatorie al chiuso per un altro paio di mesi. Questa è l'uscita dello speranza inglese, è uno speranza meno palido, un pochino più scuro di pelle. Quindi questa è così, e la cosa altra importante a dirvi è che, quindi, stiamo dicendo che la pandemia non è tutto questo problema, dopo a tu, non è stata questa roba, stiamo tornando a respirare, ci vogliono riaprire, o comunque non ci hanno mai chiuso, scusate ho sbagliato, non ci hanno mai chiuso, perché ora si stanno focalizzando a fare a merda il Porco Biondo, il Porco Biondo che, vabbè, sono uscite dopo un anno i video, le email, il fatto che aveva fatto una festicciola a Downing Street a Natale, la festa di Natale, avevano mandato l'email a tutti di portatevi da bere, festeggeremo il Natale. Nel 2020, quando c'era la fine del mondo, dovevamo essere tutti morti per la pandemia, non si poteva uscire, non si poteva fare nulla, quindi adesso c'è il focus dei mainstream, dei media, della BBC, e fare a merda il Porco Biondo e il suo governo, perché avevano fatto questo party natalizio, non autorizzato, perché è ovvio, aveva detto a tutti i cittadini di stare chiusi, di stare a distanza, mascherati, eccetera, e loro si facevano le feste a Tarallucci e vino, come si suol dire. Quindi una regola per noi e una regola per loro, come al solito, un po' come in tutto il mondo. Quindi adesso c'è una campagna di sputtanamento di Boris Johnson. Cosa succederà? Potrebbero mandarlo a casa? Potrebbero mandarlo via dal governo? Non lo so. Io non credo che verrà rimosso. Sono semplicemente strategie dei media di spostare il focus da una cosa all'altra. Ma cos'è la cosa interessante? È che mentre in Merdalia il vostro drago vi stringe il cappio al collo sempre di più e vi sta veramente... ormai chiamare una dittatura sarebbe un complimento, paragonarla alla Cina una cosa da riduttiva, l'Italia è sempre più chiusa, sempre più restretta, e nonostante ciò, no? 220.000 contagi, 300 morti, tutte queste... Quindi l'Italia è nella merda, a quanto pare. E invece in Inghilterra si riapre tutto. Infatti ricordiamoci sempre che il famoso drago, nella sua conferenza di qualche giorno fa, quando il giornalista del Times gli ha chiesto come mai in Inghilterra riaprono e in Italia chiudono, Draghi ha detto guardate io non riesco a capirci niente della situazione italiana come potrei capirci di quella inglese. Quindi questo è il livello di competenze che avete in Italia, chi c'è il governo, che non avete eletto e come neanche si nasconde, non si fa neanche problemi a dirvi che lui non sa che cazzo sta succedendo, non gliene frega, alla fine gli ha dato degli ordini e gli ordini di Draghi sono questi. Distruggi l'Italia a livello tessuto sociale, metti uno contro l'altro, distruggi le piccole aziende, manda tutto in bancarotta così fra qualche mese e qualche anno sarà tutto a sconto e noi potremo andare a comprarcela a prezzi di saldo. Questa è la verità. L'Inghilterra ha un'economia che non è stata danneggiata quanto quella italiana perché in due anni non ha mai avuto le restrizioni che ci sono state in Italia e adesso infatti vogliono riaprire, che non hanno chiuso, però vogliono lasciare ancora più, come dire, correre l'economia, farla schizzare noi in alto ancora di più, mentre in Italia la chiudono ancora di più. Quindi notate, la pandemia alla fine l'abbiamo capito, anche i mattoni l'hanno capito, non c'è l'emergenza, la gente non muore in mezzo alla strada. Sì, c'è un virus, sì, andrebbe gestito meglio, ma la verità è che è stato uno strumento politico per distruggere l'economia, per esempio, dell'Italia e renderla ancora più povera e distruggere i cittadini italiani al massimo, mentre l'Inghilterra ha un'opportunità per, questa è la mia interpretazione, per dimostrare all'Europa che le cose le facciamo in modo diverso, con tutte le critiche e gli errori che poi possono arrivare e vi dimostriamo adesso che siamo a metà gennaio e stiamo aprendo al massimo, stiamo approcciando questa emergenza pandemica in maniera soft, perché pensiamo che i benefici che questo approccio daranno alla nostra economia e alle tasche dei cittadini e al PIL del Paese siano più importanti di implementare sistemi cinesi di Green Pass e di discriminazione sociale e sanitaria. Quindi questa è la mia visione. In Inghilterra c'è un interesse a mantenere l'economia sana e in qualche modo a recuperarla limitando le restrizioni, mentre in Merdalia, nel Draghistan, c'è un interesse a distruggere il Paese, far fallire le piccole aziende e così che resteranno solo gli Amazon, i McDonald's, i KFC, le grandi catene, l'IKEA, i grandi gruppi e tutti quelli che sono piccoli falliranno. Questo è evidente. Senza parlare poi degli effetti sul turismo, perché l'altro giorno parlavo con il mio collega indiano che voleva venire a Marzo in Italia con la sua famiglia a farsi una bella vacanza e ha detto guarda lascia perdere perché non siete tutti vaccinati nella tua famiglia, quindi non riuscirete ad andare da nessuna parte. E lui, ah non lo sapevo, grazie, allora andrò da qualche altra parte. Quindi lui che avrebbe portato Mari 4-5 mila euro in totale come persona che viene in vacanza, non ci andrà, perché non è un Paese visitabile l'Italia, è un Paese di merda. Non a caso si chiama Merdalia. E con questo chiudo il video, ci vediamo alla prossima, statemi bene, ciao!